Buongiorno a tutti e benvenuti a questo approfondimento numero due previsto per Moodle Mood Italia 2020 è il numero due perché ovviamente prima c'è stato un numero uno che invito tutti a guardare diciamo che non è proprio ideotico però aiuta molto aver seguito tutto l'approfondimento 1 e possibilmente anche l'intervento che ho fatto in diretta che era diciamo un po per principi generali aiuta molto a capire le cose che diremo in questa prossima ora perché perché qua ci spostiamo sul punto di vista opposto cioè non tanto di coloro che creano contenuti sono interessati a sapere quali diritti la legge riserva loro per tutelare appunto i loro prodotti e loro creazioni ma quando ci spostiamo dall'altra parte diventiamo degli utilizzatori qua vedete che il titolo è le regole per l'uso e il riuso di materiali didattici online e non solo perché è chiaro che parliamo adesso di tecnologie per l'apprendimento online perché ormai proprio in questo 2020 molto si è spostato sull'online ma la didattica si fa anche si fa anche ancora nelle aule nei convegni nei corsi di formazione di aggiornamento professionale quindi c'è anche una didattica ancora basata sul cartaceo sulla distribuzione di materiali e sul supporto e via dicendo appunto detto questo conoscere la parte diciamo dell'approfondimento 1 cioè conoscere quali sono i diritti che entrano in gioco ci rende la vita più facile anche ora anche in questo in questo secondo approfondimento in cui l'ottica è opposta cioè sapere per coloro che sono interessati a sapere quali utilizzi possono fare delle opere degli altri è utile conoscere quali sono i diritti che entrano in gioco capite quindi invito tutti a eventualmente se avete del tempo che avanza fare pausa su questo su questo secondo approfondimento e iniziare dal primo che come dire come diciamo prevede un percorso logico un po' più solido e chiaro in questo modo allora le solite slide di presentazione vi rimando più che altro a slide share perché è lì che troverete queste slide se vi servono proprio la presentazione slide a se stante senza il video e le altre 150 e più slide che io prima di questo momento ho sviluppato e che continuo ad aggiungere ed arricchire sul mio profilo slide share lì trovate davvero tantissima roba anche sul mio canale youtube troverete corsi che sviluppano questi stessi argomenti sia dell'approfondimento 1 che dell'approfondimento 2 con molto più dettaglio quindi per chi fosse interessato e particolarmente incuriosito ad alcune slide magari può trovare spunti per fare un passo ulteriore in quei video vi invito a seguirmi avrei piacere che se le mie attività le cose che vi dico il mio approccio vi piace vi è gradito e vi è stato utile vogliate seguire la mia pagina facebook il mio canale twitter il profilo su linkedin attenzione che appunto facebook dovete seguire la pagina e non il profilo privato perché si può creare confusione lascio come al solito il riferimento bibliografico il libro didattica 2.0 in cui nel capitolo 5 ho approfondito sono circa 18 19 pagine quindi una lettura abbastanza breve che possiamo dire essere la dispensa di riferimento per questi due approfondimenti per questo corso online asincrono e si intitola il diritto d'autore le licenze open e l'attività didattica direi un titolo molto molto descrittivo e anche abbastanza se fate caso abbastanza aderente ai titoli dei due approfondimenti di oggi ecco ripartiamo da qua cioè questa slide usata anche nell'approfondimento 1 cambia la freccia nel senso cambia la direzione cambia il punto di vista e vi rifaccio la domanda voi da che parte vi sentite da che parte state come soggetti che si occupano di didattica in modo attivo in modo chi lo fa per professione chi lo fa come come dire hobby come secondo lavoro e via dicendo ma da che parte state quando fate i docenti quando create dei contenuti creativi l'abbiamo già detto nell'altro nell'altro intervento però tendenzialmente siamo sempre un po' di qua e un po' di là è difficile essere nettamente sul lato arancione nettamente sul lato blu perché perché in modo cioè la creatività digitale ci spinge sempre a muoverci a cavallo di quella riga bianca che vedete che vedete lì in mezzo ora però in questa prossima ora cercheremo di guardare la materia secondo il punto di vista blu cioè secondo il punto di vista degli utilizzatori di coloro che utilizzano opere già create in precedenza da altre persone vogliono sapere in quali limiti in quali termini possono farlo possono riutilizzare le opere di altri e ho diviso il seminario in due grandi parti una che vedete si intitola che è questa la prima pubblico dominio e altri casi di libero utilizzo delle opere cioè tutti quei casi in cui secondo la legge è già possibile utilizzare le opere liberamente senza dover acquisire licenza chiedere permesso pagare dei diritti e diciamo le due sotto insiemi di questa parte cioè le due estrinsecazioni di questa prima parte sono il pubblico dominio e e le cosiddette libere utilizzazioni che più propriamente dovremmo chiamare eccezioni nel diritto d'autore dopo ve le spiego meglio allora questa questo schema è già comparso anche lì ma adesso lo vedete circoscritto nel senso che quel quello schema cioè quelle lisse verde ci fa capire di cosa di cosa ci occupiamo quindi abbiamo già spiegato che la regola è che tendenzialmente tutto è sotto copyright no perché il copyright scatta automaticamente perché gli autori hanno automaticamente tutto il fascio di diritti per tutelare la loro creatività e dall'altra parte abbiamo detto che ci sono delle eccezioni e noi adesso cominciamo a mettere a fuoco queste eccezioni e quindi vedete le due i due temi oggi ci occuperemo sia appunto di quello in questa prima parte di ciò che è cerchiato in verde cioè il pubblico dominio e i casi di libero utilizzo stabiliti dalla legge e poi nella seconda parte ci sposteremo di qua e finiremo diciamo lo schema l'ultima gamba a destra dello schema che si occupa del del libero utilizzo stabilito dal titolare dei diritti con il simbolino delle creative commons che dopo vi spiego meglio quindi torniamo iniziamo a mettere a fuoco cosa si intende per pubblico dominio pubblico dominio spiegato così sembra molto semplice cioè pubblico dominio è quella situazione in cui nessun diritto è più riservato è l'esatto opposto è il negativo del all rights reserved tutti i diritti riservati tipico dell'approccio dell'approccio copyright all rights reserved è la tipica dicitura che troviamo sui libri sui cd sui dvd sui software i supporti software via dicendo quando invece no rights reserved cioè non ci sono diritti riservati perché perché per qualche motivo l'opera è appunto in pubblico dominio e nessun diritto è riservato vuol dire che non devo più preoccuparmi che ci sia qualcuno che non gradisce l'utilizzo dell'opera e che mi deve o meno autorizzare a fare questo utilizzo quindi l'utilizzo è libero senza condizioni classico esempio le opere della letteratura diciamo dei classici della letteratura sono cadute in pubblico dominio perché gli autori sono morti più di 70 anni e quindi io se voglio ripubblicare le non so i pezzi un pezzo dei promessi sposi non devo più preoccuparmi se che il manzoni o un suo una sua casa editrice o una sua agenzia mi possa impedire questo mi e io debba io mi debba sentire obbligato a chiedere il permesso questo è il concetto di pubblico dominio quindi opere che diventano patrimonio culturale dell'umanità però per andare un po più a un livello di dettaglio vedete ci sono altri casi cioè guardiamo bene come si può estrinsecare il fenomeno del pubblico dominio quello di cui vi ho parlato cioè il caso in cui sono scaduti i diritti quindi l'opera cade si dice tecnicamente in pubblico dominio è il caso B in mezzo a questi tre casi della slide vedete che nel caso B ho segnato una notazione un nota bene che non è sempre facile da definire e ho segnalato il caso del diario di Anna Frank di cui adesso vi racconto brevemente cosa è successo allora dico che non è sempre facile da definire perché in alcuni casi si creano le situazioni di poca chiarezza sulla effettiva caduta in pubblico dominio quindi un'opera che era fino a un certo punto tutelata alcuni pensano che sia diventata libera e invece secondo altri non lo è ed è esattamente quello che è successo a diario di Anna Frank diario di Anna Frank secondo alcuni sarebbe caduto in pubblico dominio il primo gennaio del 2016 perché Anna Frank è morta come sapete nel 1945 quindi i 70 anni della sua morte che vanno calcolati come anno solare intero quindi dal primo gennaio dell'anno successivo ovvero primo gennaio del 2016 si pensava che l'opera fosse caduta in pubblico dominio intendo l'opera in versione originale perché le traduzioni e le rielaborazioni chiaramente sono ancora coperte perché ci sono i diritti di coloro che hanno rielaborato e hanno tradotto l'opera però il testo originale secondo alcune associazioni attente al tema della sensibilizzazione sulla Shoah, sui crimini del nazismo e via dicendo avevano diffuso il testo del diario di Anna Frank come opera in pubblico dominio pochi giorni dopo era arrivata la lettera dei legali della fondazione Frank che segnalavano che secondo loro quell'opera non era affatto caduta in pubblico dominio per un motivo sottile ma tipicamente da cavillo legalese cioè secondo le impostazioni della fondazione Frank il diario di Anna Frank che noi siamo abituati a leggere che abbiamo più o meno letto tutti al liceo non è un'opera scritta unicamente da Anna ma anche diciamo rielaborata in forma narrativa da Otto Frank da suo padre il quale appunto raccolse i suoi appunti il suo diario e li mise insieme per tirar fuori quello che conosciamo essere il libro, il romanzo che appunto tutti leggiamo e che è ben noto ergo i settant'anni della morte non vanno calcolati dalla data di morte di Anna ma vanno calcolati dalla morte dell'ultimo coautore di tutti gli autori cioè l'opera deve essere caduta in pubblico dominio secondo i diritti di tutti gli autori quindi in questo caso se si vuole considerare Otto Frank come autore dell'opera ne esce che i settant'anni si vanno a calcolare dalla morte di Otto Frank che è avvenuta negli anni settanta quindi molto dopo e quindi l'opera è tutelata ancora per qualche decennio la questione non è ancora ben chiara probabilmente qualcuno avrà voglia poi di andare di scontrarsi di andare di fronte al giudice contro appunto la fondazione Frank per reclamare questo diritto a riutilizzare liberamente il diario ma nel frattempo vedete l'opera è stata tolta cioè le associazioni che avevano diffuso quel testo inibite dalla lettera di diffida degli avvocati hanno rimosso il contenuto e quindi l'opera non è davvero considerabile ora in pubblico dominio ecco vedete un esempio in cui un pubblico dominio che sembra così chiaro lampante e semplice in realtà viene subito messo in discussione altra questione a volte non è così semplice conoscere la data di morte qui vi ho fatto un esempio di due soggetti abbastanza noti perché Anna Frank e tutti sanno in che data è morta anche perché basta pensare come è morta e più o meno riusciamo a collocare la sua morte in un periodo storico molto triste e drammatico di Otto Frank se cercate su wikipedia esce una biografia e quindi c'è la sua data di morte ma non sempre siamo così fortunati ad avere a che fare con opere di autori famosi che hanno una biografia su wikipedia o sulla Treccani o da qualche altra parte e quindi classico esempio in un archivio storico in una biblioteca locale insomma opere di autori non particolarmente famosi che magari ci interessa poter riprodurre e diffondere non riusciamo ad avere questa informazione cioè non sappiamo bene quando è morto l'autore non sappiamo bene se ci sono se in quell'opera c'erano altri autori ad esempio quindi anche il pubblico dominio nel caso B che è quello più comune quello più noto in realtà nasconde una serie di come dire aree grigie che vanno indagate completiamo la slide quindi riprendo l'ordine vado al caso A il caso A io lo chiamo public domain by law cioè un pubblico dominio per legge cioè un pubblico dominio che è stabilito a priori dalla legge cioè ci sono casi in cui il legislatore stesso ci dice che un certo tipo di opera per alcune opere che hanno alcune caratteristiche non sono tutelate dalla legge nonostante siano opere creative scusate non siano tutelate la legge sul diritto d'autore intendevo nonostante abbiano quel famoso carattere creativo che fa scattare automaticamente la tutela la legge italiana ha un articolo molto stringato molto asciutto che è l'articolo 5 della legge sul diritto d'autore che si occupa dei testi ufficiali dello Stato e delle pubbliche amministrazioni cioè dice che questi testi ufficiali sono fuori dal campo del diritto d'autore in concreto di cosa stiamo parlando il testo della delibera di un sindaco o di un presidente di regione che chiude le scuole, classico esempio i giornalisti che la mattina dopo sul giornale vogliono riprodurre interamente il testo della delibera non devono chiedere il copyright, non devono chiedere una licenza di copyright all'ufficio del sindaco, all'ufficio della regione per riprodurre interamente il testo è un atto ufficiale quindi quello è di pubblico dominio fin dall'inizio nonostante sia un'opera che ha una certa creatività intellettuale perché scrivere una delibera, scrivere un documento di quel tipo richiede comunque una competenza tecnica e un certo sforzo intellettuale che può essere considerato creativo un altro esempio i testi delle sentenze le sentenze per chi insegna diritto ad esempio ecco il mio caso, nel senso io spesso quando faccio lezioni di diritto oppure quando preparo materiali quindi preparo libri, preparo slide vado a pescare dalle sentenze della Cassazione, sentenze del Consiglio di Stato, sentenze dei Tribunali per dimostrare che quello che io sto raccontando, non me lo sto inventando ma ha una radice, una fonte più solida ecco in quel caso non devo chiedere il permesso al giudice che ha firmato la sentenza nonostante ci sia il nome, il nome e il cognome del giudice compare in fondo alla sentenza e quindi è lui teoricamente l'autore e quindi il titolare del diritto d'autore ma essendo lui in quel momento giudice del Tribunale di Genova sta agendo in nome del popolo italiano come le sentenze sono intitolate in nome del popolo italiano e quindi non ricade sotto la tutela del diritto d'autore gli americani hanno una versione molto più estesa gli statunitensi di questo principio loro hanno una legge, un articolo del Copyright Act americano che esclude dal diritto d'autore tutto ciò, tutte le opere prodotte da un dipendente del governo federale nell'esecuzione delle sue mansioni ufficiali che vuol dire molta più roba, capite? non è solo l'atto ufficiale ma è qualsiasi cosa prodotta quindi anche il video, anche le fotografie, i reportage, le banche dati tutto ciò che viene sviluppato da un dipendente del governo federale quindi non di tutta la pubblica amministrazione americana ma del governo federale va in pubblico dominio il che vuol dire che sui siti di questi enti degli enti tendenzialmente che hanno un dominio.gov abbiamo tantissimo materiale che è in pubblico dominio andate a cercare e vedrete che spesso compare questa annotazione sotto i materiali il punto C invece lo ritroveremo dopo però ve lo anticipo riguarda un pubblico dominio invece possiamo dire artificiale cioè un pubblico dominio che viene creato anche prima che siano passati i famosi 70 anni della morte ovvero in che modo si fa? lo si fa attraverso un atto di rinuncia cioè l'autore, il suo titolare dei diritti rinuncia definitivamente e anticipatamente rispetto alla scadenza naturale all'esercizio dei suoi diritti facciamo un esempio concreto io se volessi rilasciare queste slide che state vedendo o questo video in una situazione di pubblico dominio dovrei allegarvi non una licenza creative commons ma appunto un CC0 CC0 è una cosa ancora più forte di una licenza perché è una rinuncia ai diritti quindi io rinuncio completamente all'esercizio dei miei diritti e quindi di fatto quell'opera viene considerata come se fosse in pubblico dominio è vero che i più bravi che sono stati attenti nella lezione nell'approfondimento 1, quindi nell'altro video mi diranno che in Italia noi abbiamo i diritti morali quelli che sono irrinunciabili e inalienabili è vero, infatti da noi CC0 funziona con un asterisco di fianco cioè CC0 sempre da, come dire, limitare alla continua alla persistenza, all'esistenza di questi diritti morali di cui l'autore non si può liberare e quindi non può rinunciarvi ad ogni modo un autore che in Italia applica il CC0 rinuncia a tutti quei diritti di carattere patrimoniale cioè nel nostro schema grande ad albero che abbiamo mostrato la volta nel precedente intervento tutti quelli dalla seconda colonna a destra in poi e quindi tanta roba cioè ci consente sostanzialmente di fare un uso libero come se lui fosse già morto da più di 70 anni passatemi la battuta ok, quindi questi sono i tre casi in cui si manifesta il pubblico dominio rifletteteci e fate caso quando ricadete in queste situazioni nel riutilizzo di materiali perché questi sono i casi in cui avete massima libertà potete fare davvero quello che volete l'altro caso no, vi ricordate che torno indietro di una slide di due slide, cioè lo schema era diviso vedete, c'è anche la parte adesso siamo sostanzialmente saltiamo al di là di questa riga grigia e ci occupiamo del libero utilizzo stabilito dalla legge cioè i casi eccezionali in cui la legge stabilisce che il diritto d'autore debba fare un passo indietro farsi da parte in virtù a favore di altri diritti e altri interessi più importanti eccole qua venivano chiamate una volta libero utilizzazioni adesso più propriamente vengono chiamate eccezioni al diritto d'autore e sono, vedete, casi specifici indicate dalla legge e nella legge italiana sono dagli articoli 65 e seguenti 71, ter, quattro, insomma è un elenco abbastanza lungo noi non li vedremo tutti ci soffermeremo solo su quelli che interessano l'ambito didattico e appunto casi specifici in cui un'opera è ancora sotto copyright ma può essere utilizzata senza chiedere il permesso quindi non cadetemi nell'equivoco che sia una sorta di pubblico dominio cioè il diritto d'autore esiste ancora su queste opere quindi sono pienamente tutelate ma semplicemente la legge dice che ad alcune condizioni possiamo utilizzarle senza dover chiedere un preventivo permesso al titolare che insomma già non è poca roba già ci dà un po' di libertà e ci toglie un po' di ansia si tratta idealmente di aree franche in cui il diritto d'autore fa un passo indietro a favore di altri interessi più importanti da tutelare li vediamo, nel senso ne vediamo alcune, quelle più interessanti qua parliamo di fotocopie ad esempio l'articolo 68 è l'articolo che disciplina l'attività di fotocopia guardate addirittura nel comma 1 parla di libera riproduzione cioè è libera riproduzione di singole opere o brand di opere per uso personale dei lettori fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio di fusione dell'opera nel pubblico ci sta dicendo che cosa? che se io vado in biblioteca e mi copio a mano sul quaderno un'intera voce della Treccani non devo chiedere il permesso e voi direte, ma caspita c'era bisogno sì, purtroppo c'era bisogno c'era bisogno perché il diritto di trascrizione come vi ho spiegato nell'altro incontro è un diritto riservato all'autore quindi anche quella è un'attività tutelata dal diritto d'autore e dunque in teoria sarebbe soggetta a autorizzazione questo comma ci abilita a fare quel tipo di utilizzi che sono descritti il comma 2 parla della fotocopia a uso interno diciamo, la fotocopia fatta dalle biblioteche vedete per i propri servizi quindi è libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche e nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche nei musei pubblici o negli archivi pubblici effettuata dai predetti organismi per i propri servizi senza alcun vantaggio economico, commerciale, diretto o indiretto quindi non è tanto la fotocopia che fate voi come singoli utenti è la fotocopia che viene fatta dagli uffici della biblioteca o della scuola o del museo o dell'archivio per i propri servizi quella che invece impatta più comunemente sui singoli lettori e sui singoli utenti è la fattispecie prevista dal comma 3 che è, vedete, fermo restando cioè lascia fuori le partiture le partiture musicali vengono sempre tenute a parte nel senso che viaggiano su una normativa un po' a sé stante perché sono opere un po' particolari sono diverse, la fotocopia di uno spartito è diversa rispetto alla fotocopia di qualche pagina di un libro e dice che, vedete, tolta la parte sugli spartiti del partitore musicale è comunque consentita nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico escludendo le pagine pubblicità la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo è qui la famosa norma del 15% non l'avrete forse già sentita tutte le volte che andate in una copisteria e chiedete di fare delle copie in teoria vi dovrebbero informare che il limite è quello del 15% oppure è scritto vicino proprio alle macchine fotocopiatrici nelle biblioteche c'è un cartello che spiega i sensi dell'articolo 68 potete fare solo fotocopia del 15% vale solo per le fotocopie questo 15% sia chiaro, non è una regola generale è una regola solo per le fotocopie quindi non è che se mio cugino mi presta un cd musicale e io lo masterizzo solo nel 15% questa cosa si può fare ai sensi dell'articolo 68 non funziona così questo riguarda solamente le fotocopie e poi dovremmo riflettere su cosa si intende xerocopia tutti lo sappiamo ma sistema analogo xerocopia per chi non lo sa è la fotocopia fatta con un vecchio sistema che è tipo il ciclostile quindi era una vecchia tecnologia adesso in realtà non si usa più molto la fotocopia è appunto sempre una copia fotostatica cioè una scansione istantanea che viene impressionata su un pezzo di carta ma un sistema analogo che cos'è? ad esempio un sistema analogo può essere uno scanner collegato ad una rete con una stampante che è dall'altra parte magari della città e stampa dall'altra parte quello è comunque è comunque un sistema analogo questo viene usato spesso quelle due paroline magiche il sistema analogo per farci rientrare il cosiddetto document delivery che usano alcune biblioteche universitarie una biblioteca universitaria che ha in archivio una rivista molto rara e riceve una richiesta da parte di un'altra biblioteca universitaria che deve darla a un suo utente e quindi invece di fare la fotocopia cartacea e spedirla per posta fanno una sorta di scansione che è destinata però ad una stampa dall'altra parte destinata ad una stampa con la fotocopietrice dell'altra biblioteca e quindi è un sistema analogo l'articolo che però in realtà interessa di più ci interessa di tutti coloro quindi metto dentro anche me stesso che fanno attività didattica e di insegnamento in generale è l'articolo 70 l'articolo 70 legge sul diritto d'autore è un articolo che tra l'altro è stato soggetto a una diciamo è soggetto a una aggiunta a un comma 1 bis che già ci potrebbe far riflettere cioè quando c'è un comma 1 bis vuol dire che è stato aggiunto qualcosa in corsa ed è bizzarro perché questa norma era già stata riscritta abbastanza di recente cioè tutte queste norme che vi sto mostrando adesso sono state riscritte nel 2003 quindi vi ho già spiegato la legge del 1941 ma alcuni pezzi sono stati interamente riscritti aggiornati questa parte sulle cosiddette libere utilizzazioni eccezioni al diritto d'autore risalgono al 2003 però pochi anni dopo il 2003 questo articolo l'articolo 70 ebbe una modifica subì una modifica cioè un'aggiunta un comma 1 bis ed è singolare perché appunto cosa sarà mai successo tra il 2003 e il 2007 anno in cui è stata aggiunta quel comma 1 bis è successo che è arrivata internet cioè nel senso è arrivata internet con un impatto sostanziale e massivo cioè non che internet nel 2003 non ci fosse ma internet non era ancora utilizzata dai cittadini con una certa frequenza e con una certa agilità quando si sono accorti che ormai chiunque era nella disponibilità di una connessione internet e aveva le competenze per mettere online un contenuto allora si sono accorti che c'era tutta un'attività che andava regolamentata ed è stato fatto con un comma che è stato oggetto appunto di molte discussioni adesso comunque andiamo per gradi vi leggo la norma com'era nel 2003 seguitemi quindi la norma del 2003 è aveva tre commi 1, 2 e 3 l'1 bis si inserisce tra l'1 e il 2 e l'1 è rimasto tale quale ci dice che il riassunto la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione nei limiti giustificati a tali fini e purché non costituiscono concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera e se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali di cosa sta parlando di quella cosa lì di quelle prime tre paroline cioè riassunto citazione o riproduzione di brani non di opere intere e quindi classica attività che viene fatta quando si fa una recensione di un libro il commento a un libro il commento a un film la tesi di laurea che nel primo capitolo fa la tesi di laurea di dottorato nel primo capitolo fa una sorta di ricognizione sulla letteratura che prima di quel momento si è occupata dello stesso tema e quindi cita dei brani ma non è non può essere vedete un semplice collage di citazioni ma devono essere effettuati vedete per uso di critica o di discussione e nei limiti giustificati a tali fini e purché non costituiscono concorrenza all'utilizzazione dell'opera cioè questa critica a discussione deve limitarsi a brani o parti di opere e non arrivare ad un punto tale per cui detto molto concretamente i lettori non vanno più a comprare l'opera originaria perché tanto nel commento c'è più o meno tutto nella recensione c'è più o meno tutto quello che interessa quindi anche lì bisogna trovare un giusto equilibrio quindi non deve fare concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera originaria e poi vedete aggiunge che se è fatta ai fini di insegnamento o di ricerca ed è il tema che credo interessi molti di noi l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative questo mi è sempre sembrato molto pleonastico molto superfluo perché se siamo nell'ambito dell'insegnamento è chiaro che sono finalità illustrative un po' meno scontato invece quando dice la parte finale per fini non commerciali quindi deve essere un'attività di insegnamento e di ricerca non commerciale quindi diverso il trattamento che subisce un'università pubblica ad esempio un ricercatore che lavora in un'università pubblica rispetto a un ricercatore che fa la stessa identica attività la stessa identica tipo di ricerca ma per un'azienda farmaceutica ad esempio o per un'azienda che fa rating in ambito economico che sviluppa modelli di business quindi stesso tipo di ricerca ma se la finalità è diversa anche il trattamento come vista del diritto dottore è diverso salto il comma 1 bis ve lo faccio vedere al volo che è qua però vado un attimo al 2 e il 3 così chiudiamo la norma come era stata pensata dal legislatore nel 2003 il comma 2 parla di antologia ad uso scolastico ecco non so qui quanti di coloro che stanno seguendo si sono occupati o si vogliono occupare di antologia ad uso scolastico è un settore molto specialistico dell'editoria e nella maggior parte dei casi sono gli editori a darvi un supporto anche legale anche su questo aspetto vi dico solamente che la norma dice che la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento il quale fissa le modalità per la determinazione dell'ecocompenso cioè cos'è che ci sta dicendo ci sta dicendo che a seconda del tipo di antologia che faccio del tipo di opere che vado a riutilizzare in questa antologia quindi antologia di prosa antologia di poesia e via dicendo posso prendere certe diciamo certe quantità di righe di pagine dal libro originale dall'opera originale e questo è scritto nel regolamento attuativo non posso fare una slide con queste norme perché avrebbero tipo 5 slide fitte fitte sono norme abbastanza dettagliate vi invito solo coloro che sono interessati ad andare a leggere il regolamento attuativo è un decreto un reggio decreto che che completa diciamo le norme della legge sul diritto d'autore della 633 del 41 ma come dicevo chi fa questa attività nella maggior parte dei casi fa riferimento al suo editore che lo guida in questa attività il coma 3 chiude il cerchio ci dice che tutte le volte che facciamo queste attività quelle comprese tutte quelle comprese diciamo da questo articolo 70 anche quelle del coma 1b che dopo vedremo devono essere accompagnate da vedete la menzione del titolo dell'opera dei nomi dell'autore dell'editore e se si tratta di traduzione del traduttore qualora tale indicazione figurino sull'opera riprodotta quindi se io utilizzo roba di altri devo citarlo ma non è che la citazione dire che viene da lui che il contributo di un altro è un'opera di galateo cioè non è una gentile concessione un'opera di un'attività che rientra nell'ambito del galateo dell'educazione è un obbligo giuridico perché in mancanza della citazione viene meno l'autorizzazione viene meno il diritto viene meno la libera utilizzazione e l'eccezione dell'articolo 70 ok quindi e in più a questo andrebbe aggiunto il famoso diritto morale d'autore articolo 20 la legge sul diritto d'autore che abbiamo citato nell'altro percorso nell'altro approfondimento che è un diritto che va sempre riconosciuto quindi dovete sempre ricordarvi di menzionare tutti questi soggetti ovviamente dice la norma qualora tale indicazione figurano sull'opera riprodotta se sull'opera se sul libro il traduttore non è stato messo non è che io devo attivarmi chiamare la casa editrice per farmi dire il nome è sufficiente indicare le indicazioni le informazioni che sono contenute nel libro arriviamo poi finalmente a questo comma 1 bis e così capite cos'è successo vi dicevo che è legato alla diffusione di internet è legato ad una storia interessante che riguarda un insegnante e che vi invito ad andare a leggere se voi cercate ancora adesso non so mettete su google homo laicus siae copyright qualcosa del genere vi vengono fuori degli articoli che raccontano la storia di questo insegnante di scuola media superiore che si trovò in una situazione non piacevole perché nei primi anni 2000 appunto quando entrarono in vigore queste norme 2003-2004 mise in piedi un sito un sito web di divulgazione culturale che si chiama homo laicus esiste ancora se lo cercate in cui sostanzialmente condivideva sulla rete i materiali didattici che lui realizzava quindi attenzione perché è esattamente l'attività che ci interessano mettere a disposizione online dei materiali didattici lui prendeva le cose che faceva a lezione che utilizzava a lezione e le metteva online pensando che fosse più o meno la stessa cosa quindi un po' di ingenuità bisogna riconoscerle un conto è diffondere utilizzare un contenuto di fronte ad un'aula che è chiusa e che riguarda 20-25 ragazzi altro conto è mettere la stessa cosa su un server su una pagina web aperta al pubblico a cui non accedono solo i miei studenti ma accede in teoria a tutto il mondo tutti coloro che per qualche motivo passano di lì e quindi è chiaro che impatta in modo diverso dal punto di vista del diritto d'autore lui probabilmente a questa cosa non ci aveva pensato oppure ci aveva pensato e confidava che non fosse così grave fatto sta che tra le opere che lui aveva riprodotto e utilizzato su questo sito c'erano anche opere tutelate dal diritto d'autore quindi non solo classici della letteratura o della storia dell'arte ma anche ad esempio quadri di Picasso di De Chirico quindi di moderni di autori moderni o contemporanei che sono chiaramente ancora tutelati per un bel po' di anni ancora e quindi dietro segnalazione la SIAE si è accorsa di questo sito e emise una sanzione applicò una sanzione di circa 4200 euro se leggete gli articoli troverete tutta la storia però insomma 4.000 qualcosa euro per un insegnante di scuola media superiore che come potete conoscere sapete meglio di me qual è lo stipendio medio di un insegnante aveva di stato non poche critiche anche dal punto di vista politico si era aperto un po' un caso sembrava un po' cattivo come tipo di provvedimento ma allo stesso tempo la SIAE diceva in quanto ente che ha anche una funzione amministrativa di controllo non poteva discrezionalmente lasciar correre di fronte ad una situazione del genere il problema non era nella SIAE il problema era nella legge cioè mancava mancava un'eccezione al diritto d'autore che consentisse agli insegnanti di fare un minimo di di avere un minimo di agio nella loro attività di divulgazione culturale che è esattamente quello che in questi mesi ci siamo trovati a dover affrontare ok cioè in questi mesi molti si sono trovati a dover fare lezioni da casa ad esempio a fare le letture di libri online e cosa sono fatto? Le hanno fatte su YouTube eh ahimè non funziona così perché fare una lezione di Harry una lettura di Harry Potter di interi capitoli di Harry Potter su YouTube vuol dire che non sto facendo un'attività didattica rivolta ai miei studenti ma sto facendo un'intrattenimento culturale rivolto a potenzialmente a tutto il mondo a tutti coloro che vengono su questa pagina YouTube o questa pagina Facebook e quindi la Rowling la casa editrice di YouTube di Harry Potter probabilmente non gradisce questo uso e se tornate indietro se andate a cercare sulla mia pagina Facebook avevo fatto una bella diretta su questo su questo argomento proprio in pieno in pieno lockdown in aprile del 2020 in cui raccontavo quali erano i vari i vari diciamo retroscena di queste attività non possiamo andare appunto così troppo così tanto nel dettaglio leggiamo cosa dice finalmente questo comma 1 bis cioè il legislatore ondevitare che con l'esplosione con l'esplosione di internet e con la diffusione di internet come fenomeno di massa e con diciamo l'affacciarsi dei docenti di scuola delle scuole pubbliche al mondo della rete poi fossero emersi anche tanti casi homo laicus e quindi tante multe tante sanzioni anche anche in situazioni in cui in realtà non c'era tutto questo danno e in realtà appunto c'era un'attività di divulgazione culturale arriva questo comma 1 bis che viene aggiunto nel 2007 dice è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate per uso didattico scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro state molto attenti cioè fate molta attenzione ai requisiti questa è la norma probabilmente più importante di questo nostro percorso perché vedete parla proprio della divulgazione della diffusione di contenuti attraverso la rete internet cioè è consentita la libera pubblicazione solo attraverso internet cioè questo comma si rivolge solo alla pubblicazione su internet deve essere una pubblicazione a titolo gratuito cioè non si deve chiedere un compenso per l'accesso al contenuto deve riguardare solo immagini e musiche eccolo qua quindi non riguarda i video non riguarda i testi i video non sono stati considerati e i testi rientrano ancora nel comma 1 cioè nel discorso della citazione e riassunto ok e le immagini e le musiche qua diciamo si diffuse un po' di larità e un po' di critiche a bassa risoluzione o degradate cioè le immagini e le musiche per essere trasmesse devono essere liberamente ripubblicate devono essere a bassa risoluzione o degradate e qua si può aprire un capitolo di otto ore su cosa intende essere il legislatore nel 2007 quando ha scritto bassa risoluzione o degradate perché capite che se non si precisa bene il concetto tanto c'è tante cose possono rientrare tante sfumature di bassa risoluzione esistono e di degradazione di un file cioè un file jpeg anche se ha una risoluzione molto alta ma è per definizione degradato perché è jpeg è un formato compresso di immagine e quindi visto che qua dice bassa risoluzione o degradate e non e degradate lascia un po' il dubbio sull'interpretazione aggiunge poi che deve essere per uso didattico scientifico quindi non è che apro un sito dove ogni tanto faccio attività didattica ma in realtà faccio anche tutto il resto e va bene va bene sfrutto l'articolo 70 perché ce lo metto di nota devono essere siti che sono chiaramente palesemente per attività didattico scientifica quindi sicuramente il sito istituzionale della scuola o del centro di formazione va bene se è il canale youtube o la pagina facebook dove poi in realtà arriva a tutto il mondo comincia a cambiare anche perché lì in realtà c'è un lucro c'è un lucro indiretto non mio ma un lucro di facebook di youtube che ci mette la pubblicità magari oppure mio che ci aggiungo i banner pubblicitari quindi stiamo molto attenti a come interpretare la norma per l'interpretazione della norma però che è l'attività che sto facendo io praticamente da quasi un quarto d'ora in realtà noi dovremmo andare a vedere un altro testo normativo cioè il decreto il classico decreto attuativo quando arrivano norme poco chiare il legislatore ci dice no ma tanto te lo spiego dopo in un altro decreto come devi considerare questi concetti ma questo decreto non è mai arrivato quindi il famoso decreto attuativo del comma 1 bis di questo articolo di questo decreto sono circolate delle bozze ma non è mai stato approvato nulla e quindi pur essendo passati ormai 13 anni pieni quasi 14 noi non siamo ancora oggi in grado di capire bene cosa volesse dire il legislatore dall'altro lato però prendiamo quello che c'è nel senso la norma è scritta così è in vigore è pienamente in vigore da ormai 13 anni quasi 14 quindi la norma esiste in questi casi cosa fa il giurista cerca di interpretare il testo così com'è e fa affidamento sul buon senso della giurisprudenza cioè i giudici poi avranno modo di diciamo sartorialmente applicare e calibrare tutte queste situazioni riassunte in queste in queste quattro righe e applicare i casi concreti di giurisprudenza su questa norma non ce ne sono non ce n'è ancora perché è troppo giovane non ci sono stati casi che hanno portato a sentenze importanti che io vi possa citare quindi ci dobbiamo limitare a fare questo commento però ecco tenetevela lì perché questa cioè salvatevela da qualche parte perché questo è davvero il comma che tiene in piedi buona parte delle attività di didattica online vado avanti e arrivo alla parte relativa all'immagine delle persone cioè quindi quando io utilizzo immagini fotografie o video in cui ci sono persone ritratti in cui ci sono persone riconoscibili si pone anche un problema a cavallo con la privacy qua noi parliamo principalmente di diritto d'autore di copyright non tanto di privacy però ecco gli articoli 96 e 97 della legge sul diritto d'autore si occupano di un tema che è in un certo senso sovrapponibile e incrocia il terreno del diritto alla privacy del diritto delle norme sulla tutela dei dati personali perché l'immagine di una persona è anche un dato personale cioè la mia immagine è anche un dato personale soprattutto adesso in questi ultimi anni in cui i miei tratti visivi possono essere utilizzati anche da sistemi automatizzati per riconoscermi per far aprire un cellulare per far funzionare un computer ok quindi cosiddetti dati biometrici quindi occhio a questo aspetto leggiamo però cosa dice ecco la legge sul diritto d'autore in ottica di libero riutilizzo ci dice che tendenzialmente dobbiamo riconoscere questo diritto d'immagine alle persone ritratte quindi se c'è una persona ritratta io devo farmi dare liberatoria devo farmi dare un'autorizzazione allo sfruttamento e all'utilizzo della sua immagine ma dall'altro lato ci dice che in alcune situazioni non devo chiedere il consenso ed è quello che ci interessa ovvero leggiamo articolo 97 dice che non occorre il consenso della persona ritratta quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto quindi questa è una prima giustificazione una prima causa che esclude la necessità di consenso arriva un cantante famoso a fare un'inaugurazione nel mio paese faccio le foto e quindi non è che poi devo chiedergli faccio le foto per un giornale o per il mio sito per quello che voglio non devo chiedergli questo diritto di immagine e autorizzazione perché è noto è un personaggio famoso ancora più se è un ufficio pubblico cioè se è il sindaco se è l'assessore se è il politico che viene a fare un comizio elettorale e via dicendo oppure anche da necessità di giustizia di polizia cioè quando quando la polizia rilascia sui media sui siti web o su un giornale la fotografia di un boss mafioso che è ricercato è chiaro che non va a chiedere ai suoi parenti il permesso di utilizzare l'immagine c'è una necessità di giustizia di polizia e quindi la gente deve davvero vedere che faccia questo tizio per poterlo il prima possibile rintracciare e quindi quello è un altro caso non credo che ci riguardi però insomma ecco un altro caso interessante i famosi scopi didattici scientifici e culturali c'è scritto davvero culturali ma perché la legge questo articolo viene dal 1941 e questo è uno degli aspetti interessanti ai fini del nostro discorso cioè quando l'immagine viene utilizzata per scopo didattico anche lì dovremmo andare a vedere un po' di giurisprudenza per capire bene come i giudici hanno diciamo bilanciato gli interessi non è che adesso solo perché siamo in ambito didattico allora foto di minori foto di bambini in qualsiasi situazione perché tanto sono a scuola allora vale tutto perché poi scatta appunto l'aspetto della privacy che aggiunge delle criticità ulteriori ad esempio se il bambino è portatore di qualche handicap oppure ha una situazione di salute particolare diventano dati cosiddetti come si diceva una volta dati sensibili dati a tutela particolare e quindi la situazione è un po' più complessa però ecco tra diciamo le situazioni che escludono le necessità di consenso l'articolo 97 della legge sul diritto autore inserisce anche appunto questi scopi e infine quando la riproduzione di queste opere è collegata a fatti di queste opere di queste immagini più che altro di queste fotografie o video è collegata a fatti avvenimenti cerimodi di interesse pubblico svuoltesi in pubblico un classico esempio un privato cittadino che quindi non è un cantante non è un politico però partecipa decide di partecipare ad una assemblea sindacale o una manifestazione sindacale in una piazza si mette con lo striscione in prima fila è chiaro che il giorno dopo la sua immagine verrà pubblicata su qualche telegiornale o su qualche giornale e quindi in quel caso lui non ha diritto a chiedere un compenso per l'asfruttamento della sua immagine e dare un consenso perché lui era si era volutamente esposto in un evento pubblico dove poteva chiaramente sapere pensare che ci fossero dei giornalisti ci fossero dei fotografi delle tv aggiunge poi la norma che il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio quando l'esposizione messa in commercio recchi pregiudizio all'onore alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata si potrebbe aprire tutto un capitolo di casi legati al cosiddetto attività dei paparazzi il gossip il cosiddetto gossip cioè quei giornali che pubblicano proprio le foto rubate e più sono scabrose più sono fastidiose e più fanno notizia ecco in teoria in tutti quei casi c'è una violazione di questi principi ok perché anche il personaggio famoso anche il personaggio noto il politico ha comunque diritto ad una certa anche se più ristretta ad una sfera di privatezza di riservatezza e quindi appunto in quei casi si va a valutare i giudici fanno un bilanciamento tra i vari interessi tra i vari diritti che entrano in gioco non possiamo andare così tanto appunto a livello di dettaglio però secondo me questa norma è molto utile è scritta in modo abbastanza chiaro e vi invito appunto a tenerla presente la liberatoria però è quello strumento che ci libera in tutti quei casi che rimangono fuori dell'articolo 97 cioè tutti quei casi in cui la persona può in qualche modo condizionare l'utilizzo della sua immagine e stabilirne dei limiti e quindi deve darci un consenso lo si fa attraverso questo strumento la cosetta liberatoria altro non è che un pezzo di carta o anche un form compilato online un'email inviata un documento in cui tizio titolare del diritto d'immagine cioè della persona che è ritratta e riconoscibile in un'immagine o in un video ci autorizza a farne diffusione e a fare uno sfruttamento economico eventualmente ok quindi è il documento con cui titolare del diritto d'immagine esprime il suo consenso alla diffusione della fotografia o del video in cui egli è ritratto è riconoscibile ovviamente perché se la persona non è riconoscibile non ha senso andargli a chiedere darsi da fare per chiedere liberatoria è meglio che questa liberatoria sia in forma scritta e come ho detto forma scritta può essere anche una forma scritta digitale quindi un'email un form compilato un pdf inviato e via dicendo è provvista di chiare riferimenti ai diritti concessi e agli utilizzi previsti quindi dire chiaramente che voi chiedete consenso per diffondere quel video su youtube non dire genericamente ci dai il permesso a utilizzare il tuo video dire essere più precisi possibile evita poi scocciature in futuro nel caso qualcuno dicano ma io questa cosa non l'avevo capita non me l'aspettavo allora devi rimuoverlo essere dettagliati e precisi evita che poi qualcuno possa ritrattare finita la parte sulle cosiddette eccezioni al diritto ad autore e libero utilizzazioni vado alla seconda parte che invece è quella sulle licenze open cioè riprendo il mio schema che è un po' la mappa orientativa di questi nostri incontri e eccolo lì il cerchiolino in verde l'ellissa in verde si è spostato sul lato eccolo qua sul lato finale sulla gamba finale dello schema cioè il libero utilizzo che è stabilito direttamente dal titolare dei diritti cioè è il titolare dei diritti che per sua libera scelta applicano licenza alla sua opera e quindi ci concede il libero utilizzo ed è esattamente quello che faccio io che sto facendo io in questo momento perché dopo se andremo avanti vi faccio vedere le slide alla fine delle slide c'è una bella indicazione con queste slide e questo video sono rilasciate sotto licenza creative commons quindi anche questo video è rilasciato sotto una licenza così lo anticipiamo una licenza attribution share a like che è la licenza utilizzata anche da wikipedia che consente di utilizzare in modo molto libero questo mio prodotto questa mia creazione anche a scopi commerciali consentendone anche le modifiche anche le opere derivate a due condizioni che io venga sempre citato come autore originale come autore dell'opera originale e che nel caso di opere derivate anche le opere derivate mantengono la stessa licenza quindi chiunque voglia prendere queste mie slide e farne ad esempio un'infografica o farne un video divulgativo deve rilasciare anche il video divulgativo o l'infografica con la stessa licenza che io ho applicato in questo modo si trasmette a cascata il regime di libertà che io ho dedicato che ho utilizzato per questa per questa mia opera dopo questa diciamo introduzione vi ho praticamente già detto chi è l'assassino della storia quindi forse vi ho tolto un po' il gusto ma cominciamo a capire bene che cos'è una licenza licenza deriva dal latino licere e quindi l'etimologia è permettere autorizzare cioè licere è il verbo latino che ci indica un permesso quindi tutte le volte che c'è licenza la parola licenza ci deve venire in mente che c'è qualcuno che sta dando un permesso a qualcun altro apro un bar ho bisogno della licenza voglio fare voglio mettere in piedi un'attività di taxi di trasporto con noleggio con conducente ho bisogno di una licenza e c'è un ente un ente amministrativo un'autorità che mi può dare questa licenza qua siamo nell'ambito però della proprietà intellettuale del diritto d'autore e quindi la licenza che è che ce la darà ce la darà il titolare dei diritti cioè colui che ha il copyright che ha i diritti d'autore e vedete quindi colui che ha il diritto si chiama licenziante cioè colui che dà in licenza l'opera colui che riceve l'opera in licenza è il licenziatario tipico linguaggio giuridichese non so il cedente cessionario locatore locatario licenziante licenziatario quindi voi che utilizzate opere di altri rilasciate con licenza gratis commons siete i licenziatari cioè siete coloro che utilizzano queste opere sulla base della licenza e accettando diciamo il rapporto contrattuale che si crea con la licenza le licenze open cioè in generale le licenze hanno due anime in tutte le licenze trovate una parte in cui si dicono quali usi cioè in cui il titolare dei diritti ci dice quali usi possiamo fare dell'opera cioè la parte con le libertà concesse sostanzialmente e poi una parte in cui ci dà delle condizioni cioè ci richiede di rispettare alcune condizioni alcuni limiti d'uso a cambiare è la proporzione tra queste due anime cioè quando prevale l'anima delle libertà concesse parliamo di licenza open che è il tema di questa nostra parte quando parliamo di condizioni quando prevalgono le condizioni imposte cioè quando in una licenza leggiamo che le libertà concesse sono molto molto risicate ma c'è parte tutto poi un elenco di condizioni di limiti che vogliamo che dobbiamo rispettare allora quella viene chiamata licenza proprietaria e quello che succede quando apriamo una licenza di un software proprietario provate a leggere la licenza del vostro sistema operativo Windows o del vostro sistema operativo Mac OS e vedrete che in realtà sono più che altro un elenco di divieti questa è una questa metafora questa slide che rappresenta che utilizza la metafora del cartello fuori da un parco è abbastanza chiara e indicativa cioè la licenza proprietaria vedete è un cartello in cui di fatto ci dicono che possiamo entrare nel parco ma non possiamo fare molto sì ok sei benvenuto nel parco però non puoi cogliere i fiori non puoi fare il picnic non puoi portare il cane e non puoi accendere fuochi ok e quindi vabbè so che posso entrare ma ho una serie di limitazioni dall'altro lato la licenza open è invece un cartello che oltre a darci il benvenuto e a farci entrare in realtà ci sta dicendo anche quante cose possiamo fare all'interno del parco quindi puoi entrare dalle ore 9 alle ore 18 puoi raccogliere i fiori puoi fare il picnic puoi portare il cane puoi giocare a calcio ma non puoi accendere fuochi perché comunque una licenza deve avere ha sempre un minimo di limitazioni perché se non ci fossero limitazioni non sarebbe nemmeno una licenza sarebbe quello che abbiamo prima chiamato un cc0 cioè un pubblico dominio liberi tutti fai quello che vuoi della mia opera ok su questa metafora iniziamo a vedere quali sono le vere licenze creative commons cioè io qua ho una slide che solitamente un po' di anni fa quando c'era in giro il libro e il film 50 sfumature di grigio faceva ridere adesso fa un po' meno ridere perché non tutti collegano però le licenze creative commons creano 6 sfumature di open non proprio 50 cioè creano delle sfumature intermedie tra questo nero e bianco tra questi due estremi che sono il copyright e il pubblico dominio no? li abbiamo visti questi due estremi o un'opera completamente utelata oppure è completamente fuori dal copyright oppure devo sfruttare una di quelle libere utilizzazioni eccezioni che abbiamo visto prima che però sono molto molto ristrette e stabilite dalla legge altra soluzione per avere una sfumatura di grigio all'interno di questo bianco e nero è chiedere cioè far leva sulla sulla libera scelta del titolare dei diritti cioè il quale è lui che sceglie di rilasciare liberamente un'opera poi possiamo entrare in aspetti psicologici del come mai qualcuno debba rinunciare dei diritti che la legge automaticamente gli regala gli dona e lì insomma è tutto un aspetto forse appunto più psicologico filosofico io sono stato uno dei primi in Italia ad adottare queste licenze e devo dire che ne ho trovato ne ho avuto grande grande beneficio nel senso che le mie opere hanno avuto una visibilità estremamente più ampia estremamente maggiore di quella che avrebbero avuto se io avessi scelto un approccio copyright tradizionale mi fossi fatto pubblicare il libro da i libri da qualche casa editrice appunto vecchio vecchio stampo quindi su quello vi lascio vi lascio riflettere quali sono le come dire le leve psicologiche modelli di business che gli autori o gli editori possono scegliere possono perseguire scegliendo di utilizzare queste licenze da punto di vista giuridico mi interessa che voi conosciate appunto la gamma di queste sei sfumature che vediamo in questa prossima slide in questa vi lascio solamente lo spunto ad un video che è molto bello fatto molto bene molto chiaro dove dovreste guardarlo tutti dura 7 minuti non potevo metterlo all'interno di questa nostra video lezione perché se no andavamo fuori tempo però lì c'è il link che lo trovate anche su youtube però le sei licenze vedete sono fatte sono formate dall'incrocio di queste quattro clausole base che sono le quattro caratteristiche delle licenze Creative Commons che poi danno il nome alle sei licenze che sono queste qua cioè queste sono le famose sfumature di grigio cioè dovremmo mettere probabilmente invertire la slide sdraiarla e avremmo attribution dalla parte destra cioè dove c'era quasi vicino al pubblico dominio e attribution commercial dono derivati l'ultima dalla parte un po' più nera dove c'è il copyright però vedete che ho messo 6 più 1 perché perché c'è anche il cc0 6 più 1 perché il cc0 non è come ho spiegato prima tecnicamente non è una licenza è un atto di rinuncia ai diritti e quindi non è classificabile come licenza Creative Commons però appunto è in quella posizione lì cioè equivale ad un pubblico dominio anche se artificiale e poi appunto scendendo abbiamo le licenze che man mano aggiungono delle restrizioni questa è la più libera attribution cioè chiede solamente che l'autore venga riconosciuto come fonte originaria e nient'altro poi attribution share a like che è quella che utilizzo per questo video per queste slide che quindi conoscete già e che è quella utilizzata da Wikipedia poi c'è attribution no derivatives che non consente le opere derivate e poi iniziano cioè sostanzialmente ci sono le stesse tre licenze con l'aggiunta del non commercial cioè la distinzione tra utilizzi commerciali e non commerciali quindi un attribution non commercial share a like è più o meno la stessa cosa della mia licenza la licenza utilizzata per questo video ma non consente gli usi commerciali quindi fa una distinzione cioè se utilizzi le mie slide per scopi commerciali lo puoi fare non lo puoi fare se lo fai invece per scopi diciamo di no profit di divulgazione culturale in ambito didattico invece lo puoi fare come si ah ecco scusate questa slide se stavo già andando oltre ma questa slide è fondamentale questa è un'infografica fatta benissimo fatta da un certo fotter che è segnalato qua vabbè si è nascosto però è un bravo diciamo designer di infografiche a sua volta rilasciata sotto licenza ccby.sa che vi funge da proprio mappa orientativa questa dovreste stamparvela tenervela lì di fianco perché grazie a questa slide voi sapete di fatto cosa dovete fare cosa potete fare con ogni opera che trovate con licenza cc cioè trovo una fotografia che è sotto non so ccby.nc io vado di fianco qua a destra e vedo cosa posso fare cosa non posso fare oppure trovo una ccby.nc.nd vado di qua e vedo cosa posso fare cosa non posso fare quindi questa è davvero un'infografica molto molto intelligente a prova di bambino di scuola elementare davvero di scuola primaria arriviamo ad una parte più operativa che sicuramente è quella che interessa ovvero come applico una licenza creative commons le licenze creative commons non si registrano questa è una delle grandi leggende da un lato abbiamo spiegato le licenze creative commons non sono una fonte di tutela una forma di tutela delle opere perché la tutela viene dal diritto non dalla licenza mi raccomando questo concetto è fondamentale le licenze non tutelano le licenze liberano l'utilizzo delle opere le licenze creative commons quindi non danno una tutela in più e nello stesso tempo sono strumenti che ci aiutano a liberare le opere mantenendo comunque quel legame non è un cc0 quindi mantengono un legame con l'autore ecco perché alcuni cadono nell'equivoco dell'opera della licenza che è tutelata che è una forma di tutela in più l'autore che aggiunge questo attribution pensa che questo attribution dia una garanzia in più in realtà la legge già prevede che l'autore debba essere riconosciuto le creative commons servono per fare andare nella direzione opposta andare nella direzione della libera fruibilità nella libera concessione delle opere ok dicevo l'autore che vuole applicare una su una sua opera una licenza di creative commons può farlo passando da qua ovvero passando dal sito creative commons punto org choose dove vi stavo dicendo non vengono registrate le opere cioè voi non è che state non è che fate un upload alla vostra opera e creative commons la registra da qualche parte non è così penso questo è un equivoco che passa in realtà creative commons vi guida semplicemente alla scelta della licenza che fa il caso vostro e vi fornisce dei metadati cioè vi fornisce una stringa di codice che voi potete andare a nascondere infilare nel file della vostra opera e questo è rappresentato in questo screenshot che vi ho messo purtroppo non abbiamo il tempo per fare tutta la procedura dal vivo ci sono i miei video di altri corsi che ve lo spiegano meglio però sostanzialmente cosa fate andate sul sito creative commons rispondete a queste domande due domande che sono consenti che vengono condivisi adattamenti della tua opera e permetti che la tua opera venga utilizzata a scopi commerciali rispondendo a queste due domande sì no sì no fintanto che lui vi dice qual è la licenza che avete scelto e sotto vi fornisce vedete qua a destra i metadati per poter metadatare il vostro file il vostro file musicale la vostra foto e via dicendo e poi in un'altra schermata che è facoltativa possiamo dire vi permette di aggiungere ulteriori metadati non so il nome dell'autore il nome del il sito web al cui volete che venga che venga collegata che venga collegata all'opera l'opera originale da cui voi avete fatto un'opera derivata e via dicendo ma sono semplicemente dei metadati in più quindi non è che vi danno una tutela danno però sicuramente un'informazione in più agli utenti agli utilizzatori ai cosiddetti licenziatari dell'opera quindi sarebbe utilissimo conoscerli e utilizzarli cioè sarebbe indicato utilizzarli però visto che noi stiamo parlando del lato degli utilizzatori guardiamo cosa succede quando siamo dall'altra parte cioè cosa succede quando ci servono delle opere sotto licenza creative commons e le andiamo a cercare sulla rete tendenzialmente e lo facciamo dove? lo facciamo o su un motore di ricerca specifico cioè un motore di ricerca appositamente creato per cercare opere sotto creative commons e questo è uno cioè è il motore di ricerca fatto da creative commons e vedete lo trovate all'indirizzo search.creativecommons.org vi si apre una semplice schermata da classico motore di ricerca e lui va a cercare mettendo un filtro vedete qua sotto vi permette anche di tagliare la vostra ricerca renderla molto più molto più precisa cioè io voglio solo i contenuti che siano ad esempio modificabili adattabili perché devo fare un'opera derivata mi serve un'immagine per fare ecco sono l'ufficio turismo del sono una biblioteca o una scuola che deve fare una ricerca sulla Sardegna e ho bisogno di immagini della Sardegna che siano liberamente utilizzabili ma anche modificabili perché devo fare un'infografica devo ritagliarle e modificarle ok quindi già qua lui mi permette di applicare questo filtro ma in realtà questo filtro lo mette già Google nel senso che questo è uno screenshot che ho fatto utilizzando proprio l'esempio della Sardegna mi serve un'immagine rappresentativa della Sardegna non so questa è probabilmente la spiaggia di Stintino e mettendo ho messo genericamente Sardegna lui mi ha aperto delle immagini e senza mettere nessun filtro lui mi dà tutte quelle che Google immagini indicizza cioè tutte ma aprendo la tendina diritti di utilizzo che quasi nessuno mai come dire si trova sotto strumenti il tastino strumenti si apre una serie di filtri che comprendono anche i diritti di utilizzo e quindi filtrando i diritti di utilizzo vedete che potete scegliere opere con licenza gratis commons e quindi già da lì Google non vi dà tutto vi dà solo le immagini che rispondono alla parola Sardegna che sono sotto licenza gratis commons oppure sotto altre licenze di cui oggi non parliamo perché sono licenze commerciali che andrebbero lette di volta in volta vi invito comunque a leggere ogni volta la licenza cioè si apre un'immagine dovreste poi andare nella fonte originaria quindi non fermarvi a Google Immagini ma aprire il sito della fonte originaria e vedere verificare qual è sotto la licenza nient'altro nel senso che questo era il percorso che ci tenevo a presentarvi sulle licenze gratis commons come vi dicevo ci sono tanti miei video con approfondimenti con riflessioni ma anche con la descrizione operativa di come si mette una licenza secondo del tipo di opera non riuscivamo a fare ovviamente in un'ora anzi sono già andato lungo in questo secondo approfondimento confido che questi questi spunti vi aiuteranno per il futuro e da qua in poi avrete un livello di consapevolezza maggiore su queste tematiche e che vogliate diffondere il verbo nel senso che se questi video vi sono piaciuti visto che io li ho messi anche sulla mia pagina youtube sul mio canale youtube e sulla mia pagina facebook quindi sono visibili anche al di fuori dell'evento Moodle Mood potete condividerli farli vedere ad altre persone e magari chissà mai che mettiate un semino proficuo e che qualcuno pian piano conosca meglio questi argomenti quindi vi aspetto su questi miei tre canali facebook twitter e linkedin e dulces in fundo eccola qua oltre a ringraziarvi per l'attenzione vi segnalo che questa mia presentazione e questo mio video sono sotto licenza creative commons attribution share like cliccando arrivereste ve lo faccio vedere si aprirà il browser però arrivate alla licenza creative commons eccola qua così finalmente la vedete direi che è un anzi ve la faccio vedere in italiano così la conoscete meglio eccola qua attribuzione condivide lo stesso modo 4.0 con guardate le famose due anime tu sei libero di cioè le libertà concesse alle seguenti condizioni le condizioni imposte che sono solamente due in questo caso direi che questa è una degna conclusione vi ringrazio e bocca al lupo per tutto per le vostre attività creative online e finalmente nel pieno rispetto del diritto d'autore grazie arrivederci grazie a tutti